Il 25 novembre 1960 le sorelle Miraval furono torturate e brutalmente uccise per ordine del dittatore della Repubblica Dominicana, a causa del loro attivismo politico considerato rivoluzionario. A distanza di anni questa giornata è diventata la giornata internazionale contro la violenza degli uomini sulle donne. È importante che ognuna di noi rifletta sui propri diritti, sulla propria forza per difendere questi diritti e sulla propria indipendenza. Questo è il primo passo per contrastare realmente la violenza sulle donne.